Ciao a tutti, allora io sto facendo questo video e questo video lo voglio direttamente dedicare a quelli della team, ok? Non mi interessa se mi viene censurato, non mi interessa cosa cazzo mi viene fuori, ok? Allora adesso voi della team mi avete rotto il cazzo? Mi ascoltate bene, mi avete rotto il cazzo. Noi le bollette ve le abbiamo pagate tutte, ok? Quando vi ho dato la disdetta che ho cambiato, no? Ho provato a telefonare di 50 volte, non mi avete mai cagato. Adesso voi quella bolletta di merda delle 400 euro che mi avete mandato per quel cazzo di modem di merda, no? Io non ve la pago, non ve la pago. Avete mandato tutto per avvocato, non mi interessa un cazzo. Io quei soldi lì non ve li do, perché sono truffe. Io le bollette ve le ho pagate tutte e in un anno io quei due cazzo di modem me li sono strapagati, avete capito? Ma avete rotto il cazzo. Voi, ma non solo me, no? La gran parte è della gente che avete rotto i coglioni. Adesso piantatela lì. Va bene? Mi avete rotto i coglioni. Quei modem di merda, se io vado su internet li compro con 90 euro e dopo un anno di pagamento, di affitto, che io li ho pagati, no? Quei modem lì, come regola, sarebbero miei. Se voi mi chiamavate o facevate in modo che mi rispondavate quando chiamavo io, no? Io vi chiedevo dove spedirli. Visto considerato che voi non mi avete mai cagato, no? Anche perché io, quando ero ancora con il vostro contratto, vi avevo chiesto un tecnico. Il tecnico a casa mia non è mai arrivato. Aspettavo una vostra chiamata, che mi dovevate chiamare per dirmi quando veniva il tecnico non mi avete mai chiamato. Adesso mi avete rotto i coglioni, voi e quelle 400 euro di merda, perché io le bollette ve le ho pagate. Tutte e ho i fogli da presentare. Quei 400 euro di merda lì non ve li do. Mi dispiace, non ve li do. Li volete? Venite a prenderveli. A casa mia dovete venire a prenderveli. Sai cosa vi prendete? Dei calci in culo. Dovete piantarla lì, di truffare la gente. Piantatela lì. Avete rotto i coglioni. Avete capito? Avete rotto i coglioni. Adesso basta. Mi sono rotto le palle. Ho ricevuto la telefonata da quegli avvocati, al cui voi avete dato quelle 400 euro di merda, ma la colpa non è neanche tanto la vostra. E di quel governo di merda che vi stra dietro. Perché per 400 euro di merda, che oltretutto non è neanche un diritto pagarveli, perché sarebbero regalati, ok? Visto considerato che io le bollette ve le ho pagate, va bene. Io quei soldi non ve li do. Non ve li do. Potete mandarmi chi cazzo volete, ma mandatemi chi volete. Anche il padre eterno non mi interessa. Io non ve li do i soldi. Avete capito? Mandatemi in galera. Mandatemi davanti in giudice. Non mi interessa un cazzo. Io gli porto tutte le bollette che ho pagato. E quelle 400 euro di merda lì, voi dovete spiegare che cosa sono. Perché in un anno, io, quel cazzo di modem decoder, come cazzo si chiamano, ve li ho strapagati. Avete capito? Basta! Mi avete rotto ai coglioni. Piantatela lì. Questo video, questo video, lo faccio girare. Perché tutti devono sapere, voi quanto fate schifo. Va bene? Basta! Arrivederci alla prossima.